Non è la prima volta che succede e queste famiglie non riescono più a sopportarlo. Divani, tavoli, mobili rovinati. Questa mattina li abbiamo trovati così, già dopo ore e ore di lavoro, passate a ripulire i garage, le auto in vase dal fango e a cercare di salvare il salvabile. I sacchi di sabbia sono serviti a poco anche questa volta. Gli appartamenti sono stati costruiti circa 5 anni fa e questa è la terza volta, quindi mi sembra una cosa assurda. Avete passato la notte in bianco? Certo, dall'una e mezza di stanotte che sto qui a spalare. Poi a parte che non mi sembrava nemmeno fosse stata una pioggia così rilevante da creare un disagio enorme così, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Infatti nel terreno confinante manca un fosso di raccolta delle acque ed essendo in pendenza, quando ci sono i temporali, il fango viene trascinato fin dentro le loro abitazioni. Il problema è questo, che il campo è in pendenza, il campo che confina con la nostra proprietà è in pendenza e fin tanto che c'era il canale di scolo che raccoglieva le acque e le portava in quel canale, in quel rusce, il letto, chiamiamolo così, che c'è là, sfogava. Da quando due anni fa non l'hanno più fatto quel canale di scolo, è successo due anni fa la stessa cosa che è successa stanotte. Che cosa è successo questa notte? È successo che ha piovuto abbastanza, abbondantemente, logicamente. L'acqua si raduna tutta in una fossa lì in fondo dove finisce la pendenza, diciamo c'è un avvallamento, si raduna tutta lì l'acqua e poi viene giù di colpo là in fondo dove potete vedere dove finisce la nostra proprietà e inizia la proprietà di quei signori lì. Per cui viene giù tutta di colpo, attappa i tombini perché c'è fango, logicamente, quindi i tombini non ricevono più e viene tutta dentro il garage e dentro tutta la nostra proprietà. Siamo in sei, conciati tutti allo stesso modo, per la seconda volta. In che stato sono le vostre case? Disastrose. C'era, guardi, 63 centimetri d'acqua nel cortile e dentro casa almeno una ventina se non di più. Siamo in sei, conciati tutti.